Nuovo video di Roblox e quest'oggi giochiamo una sorta di Marder particolarissima, avete presente Lupus in tavola? Sì, 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 sì Allora, praticamente siamo dei mafiosi, ok? Siamo tutti i siti da mafiosi, uno di noi sarà l'assassino, tutti gli altri saranno persone normali, ok? Ogni giorno l'assassino dovrà uccidere una persona e tutti gli altri dovranno votare cercando di nominare chi è l'assassino Ok Se la tecno vincono i sopravvivitori Se invece, ovvero gli innocenti, se invece il mafioso riesce a far fuori tutti, vince lui Ok, ok Quindi non è un Marder, perché nel Marder tu devi far fuori tutti di fila No, no, è proprio come l'altro gioco che hai detto, Steph, è quello Lupus in tavola, sì Sì, sì, totalmente Allora, tra l'altro avete la seconda abilità che vi permette di scannerizzare le persone per vedere la sua identità Uh, è vero Quindi potete anche vedere un po' cosa succede E avete anche una torcia per avere dell'ottima luce adatta per fare i video di YouTube Mark, Mark, sei tu? Sei te questa? Sì Come avete fatto a dire che siete voi? Perché lo scannerizzato mi ha detto che è Mark Capito? Ciao, Fere Quindi non puoi sapere che è l'assassino Non ti dice il ruolo, ti dice chi è il giocatore, ok? Ok Fere Dimmi Buona te Sì, tu sei buono? Beh, no, aspettate che vi dite la vicenda che siete assassini Allora, ci dobbiamo alleare Sì, vabbè Perché noi siamo entrambi buoni Ma non è vero, ragazzi Raga, però sinceramente non si fanno queste cose Noi siamo un team torce Esatto Non disturbate il team torce, per favore Non so, io voglio Si può uccidere Marco? Sì Ma sai che sei l'assassino Se sei l'assassino Quindi mi stai dicendo che sei l'assassino, Marci? Oh, chi sei tu? Ah, un coltello Scappa, Marco Un coltello, questo matto Il team torce si divide È Steph col coltello Chi è che mi stai seguendo col coltello? Non lo so, aiuto È Steph perché sta ridendo Vattene Steph, devi parlare Non posso Sei tu col coltello? Vattene, non mi seguire Steph, non voglio essere la prima a morire Vattene È Marci, non sono io No, sei tu, sei tu che sei zitto È Marci che ti stai seguendo No, non è vero Marci, lo dici? Non sono io Fere, sei ancora con la torta in mano? Ok Sì, però vabbè Ok, dice che gli innocenti hanno vinto Ma come? Sì Aspettate Che cosa potete fare da spia? Scusate, eravate voi o no? No E allora era questo? Sì, quello lì Però mi ha ucciso alla fine del tempo E quindi probabilmente hanno vinto gli innocenti Prossimo round Chi è confuso? Io sono confuso da Blaze 58, 88, 49 Che ho messo tra state e fire No, è nostro figlio Sì, è nostro figlio È nostro figlio È la cosa più grande del mondo Io ci seguo in tutte le mappe Esatto E quindi noi abbiamo deciso tempo fa che è nostro figlio Perché come vedi è un mix Quindi È un mix, è bellissimo Esatto, fa molto ridere È riuscito un po' male L'abbiamo sempre detto Però ovviamente i figli si amano per quello che sono Sì, non sta neanche troppo bene secondo me Anche secondo me Sì, sì Alla fine può capitare Secondo me gli manca un occhio È un ciclope pure È un ciclope Ripeto I figli si accettano per quello che sono Allora, la mappa cambia Questa è una buona notizia Perché quella non mi piaceva Io vorrei un innocent Però vorrei Sono un innocente Io schermo nero Ok, è normale Ah, praticamente Ah, ecco il disguise È la skin Sì, sì Quindi siamo tutti Gianna Il tuo travestimento Ciao Gianna È enorme È enorme tutta questa cosa Gianna, dove siete Gianna? Dove siete? Sì, sono Gianna Ciao, eccomi Io vedo delle torce Ecco, chi sono queste persone? Ah, questo è Marci Io ho visto Ciao DeMarco Sì, sono questa che salta Che succede? Ma Mi ha ucciso qualcuno Ragazzi Ragazzi, ci hanno tirato una bomba E siamo tutti morti? No Io vedo tutto nero No, ci siamo Ah Ah Quindi dobbiamo dire Ecco, ecco Ora praticamente si gioca come si deve Ok Chi è il mafioso? Allora Who is the mafioso? Allora, Stef non era Marco non era È lui No No Noi sappiamo Però dobbiamo dire un nome secondo me No, 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 no Adesso abbiamo questi 15 secondi Poi ci farà votare Ok, il primo round è stato molto da tagliare Il secondo round finalmente siamo nel modo giusto Quindi qualcuno è riuscito ad ammazzare di nascosto Noi dobbiamo cercare di capire Ma non abbiamo veramente idea Allora, io vi dico Voi vi ho scannerizzati Quindi non potevate essere voi No, so anche io che non siamo noi come gruppetto Ok, adesso è il tempo di votare Raga, dobbiamo votare una persona a caso Sapete che chi votiamo muore? Davvero? Ah, così Allora, io voto Nostro figlio Oppure Corraus Chi votate? Io ho votato Corraus Corraus Anche secondo me è Corraus Dal nome Vai, vai, Corraus è lui Povero Corraus però Sì, no, no, no Dal nome Vabbè ragazzi Al momento bisogna andare un po' a sentimento Perché io non ho visto nulla poi The player with the most votes is Corraus Non dico che Corraus Povero No, è ovvio È forza È morto raga Era qui, era morto Non c'è più Ok, la mafia è ancora tra di noi No, abbiamo sbagliato raga Abbiamo ucciso l'imlocente Ragazzi, rimarrà per sempre nella coscienza Ragazzi E se il mafioso fosse Steffo? E certo tipo ho fatto gelto quando Campione Potrebbe Ero di fronte a te Ho tirato un coltello dalla schiena Io non ti ho visto Tu non ti sei mai mostrato Marce mi ha visto No, io l'ho visto Io l'ho visto Chi è questo qua? Ti scannerizzo? Chi sei? Sei tu C'è il mafioso? Come c'è il mafioso? Dove sei? Cioè sei già Mi hai fatto fuori col coltello? No Non l'hai scannerizzato? No ragazzi Dopo il molo Ti ha beccato subito Perché è comparso da solo È bravo È bravo È bravo Che non mi era Che non mi era Sei chi è Steff? Sei bravo Ascolta Allora uno però dice che Alessandro È Swampert Dice che l'ha visto Dice che Alessandro Mi fido Oppure Steff c'è da dire Che il nostro figlio È molto bravo Nelle mappe di Roblof Io mi fido Quindi se è bravo Potrebbe essere anche Il nostro figlio No 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 È Alessandro Io credo in questo consolino Crediamo in questo Lo sta giurando Cioè Dai cioè Non può Non può Crediamoci Però aspettate Chi è che lo sta dicendo? Scannerizziamolo Chi è che l'ha scritto? Non lo so Si chiama Swamp Ok quindi Se non sarà Alessandro Ragazzi Dobbiamo chiedere Swamp Ok Allora Steff ti stai fidando troppo No 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 Vota Alessandro Questo turno Dici Sì Vai Alessandro Proviamo Vediamo come va Ragazzi se lo bianchini La faccio da gentilissimo Eh lo so Però non puoi scegliere Se è mafioso o meno Quindi non devi stargli A guardare le facce Comunque dice di votarlo Io l'ho votato È strana questa cosa Non lo so È molto strano Questo suo atteggiamento Cioè Alessandro Sta chiedendo di essere votato O si sente in colpa Per ciò che ha fatto Secondo me sì Perché me lo uccide È morto? Wow Era giusto L'abbiamo preso Era giusto Bravi 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 Swamp è stato bravissimo Perché sicuramente è successo di fronte a lui Esatto Esatto Perché eravamo in tre praticamente ragazzi Ok Ok Comunque non è possibile Cioè Che ti dovevo dire Sono sempre innocente Che belli che siamo Eh questo qua è il cattivo di Sonic Ragazzi Ah bello Bello Buongiorno 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 Salve Fere vieni nel salotto Fatti riconoscere Vi prego Siamo al centro Non vorrei conoscere l'amico coltello No c'è troppa gente Io me ne vado raga Non mi fido Io ho beccato Giorgio Vanni Fere siete questa E Fere Siete tutti assieme Però non mi fido La volta scorsa Quando eravamo tutti assieme Uno ci ha schiattato Quindi Meglio stare distanti Me ne vado in giro Allora Bella questa casa comunque Stavo dicendo Questo è un atteggiamento strano Della Marche Eh no L'ho pensato Ragazzi Non lo so Non lo so ragazzi C'è Giorgio Vanni Che continua a seguirmi Scappa Marche Giorgio Vanni Ma siamo tutti qua Eccolo qua Steffo Ma siete tutti qua Ah comunque vedete spia Questa è una spia raga Marche E cosa deve fare la spia Non lo so Controllare bene Allora Questo è nostro figlio Sul vaso ragazzi non mi convince Sapete No mi ha ucciso Aspetta L'ho premuto L'ho premuto E Fere E Fere Non fare la spia Schifoso Se state tutti fermi Come può un mafioso agire Siete tutti fermi Delle scale Ma porca miseria Siete dei cittoni Non scrivere che sono io Steff Ecco perché Fere Non voleva fare il team torch Questa volta E porca miseria Però come si può giocare Siete sleali Bisogna andare in giro Steff non scrivere che Sono io Ti ammazzo Steff fammi giocare Dai Ci alleiamo Steff L'ho già scritto Secondo me Io non ho la chat Quindi non lo vedo Maledetto Steff Dica qualcun altro Inventati un nome No uno continua a scrivere Giuro che lei L'ho vista Votate Fere Ebbè eravate tutti appiccicati Ma raga Non durano niente I round Se fate così Ma vogliono votare a me Votate Steff Votate Steff Se raga Voi votate Fere Vi prego Ma se sono morto Io come faccio Vatti Lui è morto Votate Fere Io voto Steff Chi voto A Fere Io ho votato Steff Va bene No dovevi votare Qualcun altro Imbecille Ma sei tu l'assassina Eh ma ci dovevamo alleare Ma chi si allea con te Ma che schifo Ma non ho capito Ma io tanto ho votato Steff Ma perché Marco Perché Marco ha votato Fere Guarda se muore Steff È fiorito eh Non l'ho capito Ecco qua Sei uno spione Fai schifo Ma sei scarsa Ma ragazzi La chat deve essere disabilitata Se no è troppo facile Io non ce l'ho la chat Poi sei scarsa Eravate tutti i fere Come degli schifosi Guarda che la chat È il senso del gioco No non è il senso del gioco Sì ci sono 37 Sì ma non bisogna stare tutti fermi Porca miseria Quello è un altro discorso Eh Andiamo nel treno Treno perché a me Ecco almeno magari Evitate di stare tutti Allo stesso posto Mafioso Niente Basta Sono innocente sempre Innocente È rotto Adesso sto io al centro A beccare subito il mafioso E rovinargli la vita Ragazzi No vabbè Questo è un stagio molto importante Per la serie Ma il treno è terribile Questo è Steff Steff sei tu Di qua Sei tu Fammi vedere Tu sei questo No io sto guardando No io sono Ma ha già ucciso Già Vedi come si lavora Fere Sì Steff Il treno è dritto Non ti puoi Io voto Marco No che Marco Aveva la voce strana Aveva la voce strana ragazzi E Marco Io sono il framer Devo convincervi Cos'è il framer? Allora l'ho detto prima perché mi è uscito al ruolo Devo convincervi a votare quello che voto io Eh vedi che non devono parlare tutti allora Cioè fa la spia random Ma non devi votare me Marci Allora Chi votiamo ragazzi? Io Marco Adesso vi scrivo Dai Fatemi leggere un attimino l'elenco perché ho scannerizzato una persona e sicuramente non è quella persona perché non mi ha ucciso Raga io non ho idea Non ho idea ragazzi Non ho proprio idea Secondo me sai perché è stato zitto tutto il tempo No No Steff era vicino a me l'ho scannerizzato Io scrivo Marco in chat raga Marco No Allora Io voto Io voto Marco Non è Giorgio ragazzi sono sicuro Ho votato a caso raga No è Blaze È figlio nostro Io ho votato Blaze Vabbè però non votiamo tutti lo stesso se non siamo sicuri così non ci accaniamo ragazzi Io ho votato Blaze a caso perché ho saputo che altro votare non ho visto nulla Ah dicono è la mia vita U Abbiamo ucciso Blaze La mafia è ancora tra di noi No non è vero la mia vita U Raga abbiamo vinto We have called the mafia Raga sono troppo forte a sto gioco Eh ragazzi la mia vita U era a fianco a me l'ho scannerizzato e quindi c'eravamo solo io e lui non poteva essere lui Sono troppo forte Era una bugia Sono troppo forte Io vi do un indizio Ok Se non sarò mafioso quitto Quindi se non quitto sono io Ma puoi comprarti la possibilità Steph Compra te Sì certo Quanto costerà 10.000 euro Non lo so prova 10.000 euro Allora double quanto costa Eh porca miseria Quanto 5 per Raga Siamo Gabby Siamo Gabby Vai Siamo Gabby Siamo Gabby Vabbè Steph il 5 per costa 600 e il 2 per 300 600 300 600 l'altro va bene Fazzi Fazzi Sono matti questi Gabby 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 Ma qual è la skill di Gabby su Roblox? Non lo so Non ce l'ho presente Innocente Basta Basta Io non ce la faccio più Ma almeno qualche ruolo particolare Ma raga ma perché Gabby è una ragazza? Perché Gabby in inglese è un nome femminile Davvero Mentre invece noi lo usiamo come nome maschile Sì 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 Non ne avevo idea Ragazzi mi è rimasta la cosa Innocente Ah Giorgio Vanni Giorgio Vanni La mappa è più grande del previsto Questa è Marci Marci Ciao Sono io questa che salta Scusami ma io vedo fisso Your role Innocente Non si è tolto E non si tolta Davvero? Ma non puoi cliccarci Niente No non ci posso cliccare Ma perché Marci è sempre Barroblox buggato Marci è sempre buggato Guarda adesso come stanno tutti Correndo da una parte all'altra Quando non devo killare io Sì Steph uguale a prima Sì però siamo nella parte bassa Infatti sono tutti su Guarda È che alcuni sono rimasti sotto Perché non trovavano Raga chi può essere Siamo tutti appiccicati qua Dicono È Steph Ma infatti non riusciamo vivi Di che cosa? Steph ci ha detto Se Quittavo Io quindi dopo voto Steph Raga ve lo dico Però la durata del video Non dava una mano alla mia teoria Te lo dico No io più che altro Sto andando a cercare Se c'è qualcosa nella mappa Perché Ho visto uno Steph Questo qua lo sè Sono io questo Questo Sei morto Mark Te lo dico Io lo seguo Ma chi è? Mark Dimmi La mia vita uno ne è La mia vita uno ne è Dimmi C'è la spia Ok Ho tratto la spia Ma io ancora non ho capito Qual è il ruolo della spia Dovrebbe fare la spia Ragazzi Però parliamo tutti È quello il fatto Ragazzi Io li sto controllando tutti L'unico che non trovo è Steph Ma se ero lì Nel centro comarco L'ho vincita io Grazie Vabbè non ha fatto nulla Non ha fatto nulla Finito? Già Chissà chi era Daaaah Te l'ho detto che nella villa Era impossibile Io almeno ci ho provato a uccidere Tu hai fatto schifo E basta Infame Perdiamo così Tanto come i altri video Iscrivetevi al canale Ciao 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 Ciao!